salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia bene oggi più di qualche persona mi chiede come si può collegare un apparecchio bluetooth alla nostra tv android in questo caso abbiamo un android tv della philips con ambilight come vedete e il passaggio è molto semplice nel senso che lo possiamo usare come un cellulare voi avete presente che avete nel vostro cellulare se un cellulare android appunto ha un sistema operativo simile quindi non tutte le applicazioni funzionano per una cosa e anche per l'altra però le impostazioni all'incirca sono lì quindi che cosa dobbiamo fare adesso noi dobbiamo andare nel menu di impostazioni che è questa qui questa che vedete qua la la rotellina con il mio cursore mi sposto vado su vado su non applicazioni mi sposto notifiche input impostazioni e vado adesso vado a cercare le impostazioni dove c'è messo wireless e reti mi sposto vado su bluetooth vedete cerca dispositivo bluetooth e faccio cerca dispositivo bluetooth prendo le mie cuffiette in questo caso qui abbiamo delle soundpits che sono delle cuffiette classiche tengo premuto il tastino di accoppiamento adesso lui qua farà una lucina ok vedete che la lucina è verde io adesso premo tengo premuto e la pengerà per un po vedete adesso lui è in modalità di ricerca faccio ricerca vedete ricerca in corso adesso questi sono i vari dispositivi che avevo trovato soundpits air 5 gli do ok mi dice che prodotto è una cuffia si connessione in corso termina connesso soundpits termina basta adesso lui è qui io adesso vado a vedere un video su youtube ok andiamo su lorenzo andiamo a vedere un video di espertone così almeno eccoci qua andiamo a vedere un video iscrizioni così andiamo a vedere il mio canale espertone che è solo di auto ok e andiamo a vedere questo io adesso vado a vedere il volume adesso dovrei partire alzo ok e si sente qua in cuffia sentite non si sente dalla tv io adesso posso alzare e abbassare e l'audio lo sento solamente qua in cuffia quindi anche se avete per dire una soundbar bluetooth oppure una cassa bluetooth o qualsiasi altra cosa che mi interessa collegare il bluetooth potete farlo è molto semplice adesso andiamo a fare una cosa diversa andiamo a vedere invece come togliere un dispositivo bluetooth quindi io adesso le cuffiette non le voglio più usare le vendo le cambio perché voglio cambiare quindi devo andare a rimuoverle e allora torniamo nel nostro menu home andiamo su qui vedete facciamo il processo di prima impostazioni ok vado sempre su wireless e reti che è questo qui ok bluetooth rimuovi dispositivo bluetooth io vado qua adesso magnetpod associato tolgo vado scusate mi sposto e faccio rimuovi e lui adesso me lo ha rimosso bluetooth 3 perché potete anche collegare questo avevo collegato una tastiera una tastiera per usarlo per andare in internet voglio usare questo qua faccio così ok rimuovi 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 il dispositivo bluetooth si lui chiede conferma che magari non ci siamo sbagliati facciamo un'altra volta magnetpod associato ok rimuovi ok mi sposto vado giù lui mi dice rimuovi si rimuovi il dispositivo bluetooth si ecco qua l'abbiamo rimosso bene e sono cioè voglio fare questi video perché non tutti sanno che magari hanno tv col bluetooth vanno a prendere le cuffie magari quelle col filo e poi non hanno il giacca delle cuffie vanno a prendere la tastiera con l'usb ma invece ha il bluetooth e quindi posso collegarla direttamente sta seduto tranquillamente nel divano e digitale nella mia tastiera quindi molto semplice ormai le tv sono sempre più degli smartphone sono sempre più smart e quindi abbiamo tutto quello che serve bene che dire spero che video vi sia piaciuto se vi è piaciuto è stato utile mettete un bel like iscrivetevi al canale aiutatemi a crescere il canale appena partito e quindi cercate di iscrivervi così mi aiutate a crescere il video è gratuito quindi basta solo premere i tasti iscriviti non dovete pagare nulla io cercherò di portarvi altri contenuti magari fatemi sapere nei commenti se volete sapere qualcos'altro va bene grazie a tutti ciao ciao ciao